Sono Simone Mangili, Product Manager di MEI. Anche quest'anno cerchiamo di portare in Mido tutte le nostre novità, convinti di ricevere apprezzamento da tutto il mondo. Abbiamo notato un'affluenza quest'anno a Mido sopra le aspettative e soprattutto a livelli pre-Covid. Tra le novità quest'anno portiamo oltre al conosciuto Core TBA che permette di generare lenti freeform senza l'utilizzo di acqua, senza l'utilizzo di blocchetti, senza l'utilizzo di alcun processo secondario, garantendo una qualità del prodotto finale controllato nel minor tempo possibile. È già conosciuto dal mondo ma siamo qui ancora, centro del nostro stand, come il prodotto di punta di MEI, sicuri che tutto il mondo lo riconoscerà come tale. Abbiamo poi portato un nuovo progetto, la Clear XM, la prima macchina del lavaggio di lenti sagomate per cui una lente dopo l'edging, dopo il taglio, può entrare in una macchina che in maniera automatica ispeziona la forma della lente e permette un lavaggio accurato che è il preludio per un perfetto controllo cosmetico. Controllo cosmetico che come il lavaggio è ancora un prototipo per MEI, verrà industrializzato nei prossimi mesi e sarà pronto per il mercato nel più breve tempo possibile. Inoltre abbiamo anche EasyBuddy che è il primo sistema di automazione della nostra EasyFit. EasyFit è la nostra macchina per diciamo retail o piccoli negozi o laboratori che vogliono tagliare occhiali in totale autonomia nella maniera più semplice e accurata possibile. EasyBuddy permette un caricamento e scaricamento automatico della lente in questa macchina senza l'utilizzo di alcun blocco o sistema secondario.